Buongiorno a tutti, qui Riccardo Zago di Investire.biz della sezione Servizi Premium Trading con Ichimoku. Do il benvenuto a tutti alla consueta videoanalisi che tengo ormai quotidianamente per andare ad analizzare tutti quanti gli strumenti più interessanti e anche di gestire le posizioni in essere. Questa sarà una videoanalisi un po' particolare in quanto cercherò nel meno tempo possibile di riassumere la considerazione che avevo voluto fare proprio sul profilo Facebook dove indicavo che non sarei riuscito a condividere con voi la videoanalisi di lunedì ed aggiungere anche quello che ho detto ieri sull'ultima videoanalisi. Quindi gli strumenti da vedere sono parecchi, di conseguenza li tratterò in modo abbastanza veloce. Invito a chi avesse dei dubbi semplicemente ad andarsi a guardare l'analisi precedente, cioè quella di ieri dove ho fatto anche varie considerazioni tecniche e anche a livello della strategia Ichimoku nel dettaglio. Quindi adesso partiamo subito dai grafici, gli strumenti da analizzare sono veramente molti, vediamo se riuscirò ad analizzarli tutti. Allora ad esempio vorrei partire subito con l'oro, che cosa sta succedendo con l'oro? Bene ormai è da giorni che dico di essere in posizione da questo punto 1160, i prezzi sono andati su molto bene, avevo individuato un livello interessante che era la zona di 1180 come potete ricordare, dove i prezzi infatti si sono inizialmente fermati ma io non ho chiuso la posizione, ho proseguito con la mia idea e adesso i prezzi stanno continuando a salire. Oggi ovviamente bisogna fare attenzione al discorso che farà questa sera Donald Trump, di conseguenza la volatilità potrà essere parecchio alta, non sappiamo bene che cosa aspettarci, di conseguenza per chi ha già dei buoni profitti in questa posizione ma anche in tutte le altre, insomma esorto a fare molta attenzione in quanto potrebbero esserci delle escursioni forti di Pips. Infatti io chiuderò parzialmente tutte le mie posizioni giusto per portarmi a casa del profitto, del buon profitto ed cercherò di stringere gli stop ovviamente sempre seguendo le mie regole della mia strategia. Bene, quindi stavamo dicendo oro, sta proseguendo bene, prendendo in considerazione un grafico giornaliero possiamo vedere che i prezzi stanno salendo bene, il mio target si attesta intorno a 1.200 ma io direi anche 1.210 almeno per quanto mi riguarda, infatti per ora il mio target finale è proprio questo livello. Benissimo, quindi chiuso con il gold possiamo passare al petrolio, ieri nella video analisi volevo citarlo ma non ho fatto in tempo, bene, quindi per chi ha colto l'occasione si poteva, come ho fatto io, entrare in posizione sia da il livello di 5.235, io proprio ho venduto in stop su questo livello qui, i prezzi sono scesi molto bene e oggi stanno ritracciando lievemente. Che cosa possiamo aspettarci su questo strumento? Allora, io ho operato in questo modo perché innanzitutto? Allora, prendendo in considerazione queste due trendline che ho tracciato sul grafico giornaliero possiamo vedere che la seconda trendline è stata rotta al ribasso, e infatti i prezzi hanno continuato a scendere. Ulteriore conferma per lo short che ho eseguito è stata proprio la chiusura dei prezzi al di sotto di questa linea, quindi i due fattori messi insieme hanno dato buoni profitti, ora sta ritracciando. Per chi non è ancora in posizione, io ad esempio se non fossi in posizione qui, oggi potrei prendere in considerazione un buon punto di ingresso, ad esempio cercando di capire la rottura effettiva di questa trendline, che cosa vado a vedere? Vado a vedere semplicemente che tracciando questa fascia di prezzi, poi andando a cercare delle ombre interessanti, possiamo vedere che proprio il livello di 5.230 è una situazione interessante da dove i prezzi potrebbero ritornare verso il basso. Ovviamente stiamo parlando però in una giornata estremamente delicata, dove alle ore 19 ci sarà il presidente Donald Trump che farà il suo discorso, di conseguenza stare molto attenti. Comunque a livello tecnico è una buona operazione. Benissimo, passando per AudiUSD, ieri proprio abbiamo parlato di questo strumento, ho parlato di questo strumento nel dettaglio, che cosa ho detto? Che i prezzi hanno rotto al rialzo questa trendline, hanno anche rotto la linea Kijun, ovviamente chi mi segue sa bene da dove si poteva entrare qui, io ho voluto anche incrementare la posizione, però questa sera bisogna comunque fare attenzione, quindi anche qui ho portato a casa parte del profitto. Sono entrato inizialmente al livello di 0.73-82, poi quando i prezzi sono scesi, poi comunque sotto posterò le mie posizioni, così da vedere i punti nel dettaglio. Come seconda posizione ho incrementato il livello di 0.73-42, anche rischiando un po', ma i prezzi sono andati dalla parte corretta. Attenzione, sta formando anche una nuvola rialzista qui. Staremo a vedere. Passiamo a Euro Audi, era un altro degli strumenti di cui parlavo lunedì sul mio breve post che avevo messo su Facebook, che cosa potevamo vedere su questo post avevo detto di tenere d'occhio questo strumento finanziario in particolare. Perché? Perché i prezzi come potete vedere qui hanno rotto al ribasso questa nuvola, poi hanno lateralizzato un po', c'è stato un ottimo rimbalzo con conseguente rottura dei minimi e anche delle linee, di conseguenza da qui si poteva prendere in considerazione un'entrata al ribasso. Io sono dentro da 1.43-63, quindi da questo livello qui, e sono in buon profitto. Anche qui ho portato a casa parte della posizione, perché poi ovviamente oggi sono via per lavoro, di conseguenza mi sono già tutelato nella maniera più corretta possibile e questa sera vedremo che cosa potrà accadere su tutti quanti gli strumenti. Passiamo a Euro Yen. Qui c'è un'interessante occasione, in quanto come potete vedere dopo un enorme trend al rialzo, un trend molto forte al rialzo, adesso i prezzi hanno lateralizzato per un po', di conseguenza le linee Ichimoku, soprattutto la linea Kijun ha recuperato terreno, di conseguenza qui siamo su un grafico giornaliero e chi mi segue sa benissimo come bisogna operare in questo contesto. Ovviamente size ridotte in qualsiasi tipo di situazioni, in quanto questa sera ha forte volatilità. Se ci spostiamo sul 4 ore, che cosa possiamo vedere? Che qui i prezzi stanno ancora lateralizzando un po', ma hanno una tendenza ribassista. Vediamo anche la nuvola verde che si sta formando avanti. Quindi, io sono entrato precisamente a 122,43. Sono entrato un po' in anticipo, senza avere la sicurezza totale, quindi per chi non è entrato, attendere questa ultima conferma, ovviamente consultando il grafico giornaliero per un'eventuale entrata short. Si può anche tranquillamente aspettare la giornata di domani per capire come procedere con l'operatività. Questo è sicuramente il metodo migliore per garantire un'operatività con pochi rischi. Successivamente passiamo a Euro-Dollaro. Questo è un altro strumento su cui non avevo fatto la videoanalisi, ma ne parlavo ormai da tempo, e sì, qui i prezzi stanno continuando in lateralità, stanno continuamente rimbalzando anche sulla linea Kishun. Come possiamo vedere, io sono dentro precisamente dal livello di 1,05 e 23, praticamente in pareggio. Ho sofferto un po', ma vedete, i prezzi non hanno mai chiuso al di sopra, di conseguenza non ho mai chiuso la mia posizione, sono dentro da un po' di giorni. Che cosa può succedere qui? Stessa cosa, attenzione alla volatilità, io ho il target intorno all'area di 1,04, che come potete vedere è estremamente importante. Andiamo subito al prossimo strumento, videoanalisi un po' più lunga del solito, ma era giusto recuperare anche la videoanalisi che non sono riuscito a fare lunedì. Di conseguenza andiamo sul grafico del RAM, dell'iGrade Copper, che cosa vediamo, che avevo detto, di tenere d'occhio questo strumento finanziario, soprattutto per quanto riguarda il time frame giornaliero. Bene, i prezzi dopo un fortissimo rialzo hanno avuto una correzione, correzione che però sembra non aver cambiato il trend. Ovviamente non siamo ancora certi di questo, perché non ha fatto nuovi massimi, ma il nostro indicatore ci indica che ci potrebbe stare nel prossimo periodo una nuova spinta rialzista. Bene, che cosa fare in questo determinato contesto? Io personalmente come agirò? In che modo agirò? Non entro adesso, anche se il segnale c'è, perché questi strumenti si muovono tanto e di conseguenza, muovendosi molto, posso andare a prendermi anche dei buoni punti di ingresso con ordini pendenti. Ovviamente questa è una tecnica che non uso spesso, che non uso spesso, in quanto agisco sulle chiusure, ma se andiamo a vedere questa zona caratterizzata da parecchie ombre, possiamo vedere che qui ci sono questa fascia di prezzi che va da 25.920 a 25.650, è decisamente interessante. Guardate quante ombre ci sono. Se andiamo nel tempo sono convinto che troveremo altri punti interessanti ed infatti possiamo vedere come i prezzi ci rimbalzano creando delle ombre proprio su questa fascia di prezzi. Guardate, molto molto interessante questo livello. Di conseguenza si può prendere in considerazione, almeno io farò in questo modo, di mettere un ordine pendente a questo livello. Ovviamente questo ordine pendente sarà da aggiornare, ad esempio alla video analisi di giovedì, scusate, alla sessione di giovedì sera dalle ore 20 alle ore 21, dove andremo a capire se l'ordine pendente sarà ancora valido in base a come saranno impostate le medie del nostro indicatore. Quindi buona analisi anche qui, sarà da tenerla d'occhio senza ombra di dubbio. Se passiamo successivamente invece alla prossima commodities, che è quella del caffè, possiamo vedere che negli scorsi giorni io avevo, insomma, stavo controllando, e l'avevo detto a tutti, di stavo controllando questa commodities. Bene, che cosa è successo su questa commodities? Andiamo a vederlo. Allora, i prezzi come sono comportati? Come ho detto ieri, hanno chiuso al di sotto di questa trendline, quindi si pensava ad un possibile ribasso, ma i rapporti rischio-rendimento per operare con i Cimoku non erano abbastanza favorevoli, di conseguenza non l'ho fatto. Che cosa è successo successivamente? I prezzi hanno rimbalzato qui, ben due volte, senza però dare un segnale effettivo di vendita. Infatti, una volta che i prezzi, una volta che i prezzi hanno superato al rialzo questa linea, potete vedere che si poteva entrare in posizione molto molto semplicemente, a livello di 14.700. Adesso, che cosa sta succedendo? Si stanno incrociando queste due medie. Attenzione alla linea nera che potrebbe rimbalzare dal prezzo. È vero che la nuvola è ancora discendente, quindi operazione e segnale debole, ma con target intorno a 15.600. Staremo comunque aggiornati su eventuali sviluppi. Sicuramente giovedì andremo a vedere tutte queste cose molto interessanti. Che cosa è successo su SDN di cui parlavo ieri? Ieri che cosa dicevo? Dicevo che se si poteva verificare, un possibile ribasso dei prezzi. Come potete vedere però, il segnale non ci è stato dato in nessun modo e di conseguenza il segnale ribassista non c'è. Quindi, aspettare e stare alla finestra. Passiamo successivamente invece all'S&P 500. Qui, ovviamente, bisogna sempre dire quando si prendono gli stop e quando si fanno operazioni errate. In questo caso, io che cosa ho agito prendendomi un piccolo stop? Bisogna ammetterlo. Che cosa ho fatto? Ovviamente, i prezzi hanno rimbalzato ben una, due, tre volte su questa linea, sulla mia linea Kijun. Benissimo. Io che cosa ho fatto? Sono entrato con un ordine buy stop a livello di 2273. I prezzi ieri sera proprio sono andati verso l'alto. Bene. Poi sono scesi e successivamente la candela delle 21 ha chiuso alle ore 01.00. Ero ancora sveglio. A livello di 2269. Bene. Io ho chiuso in stop. Quindi, dal livello di 2273 a 2269. Quattro pips di S&P. Direi che comunque niente di grave. Ora che sta succedendo? I prezzi, proprio in questo momento, adesso stanno tornando verso l'alto. Vedremo che cosa ci potrà dare il mercato. Vedremo che cosa accadrà. Io comunque resto flat per ora su questo tipo di strumento. Come ultimo, ma non meno importante, euro yen, che si distingue un po' di più da dollaro contro yen. Se andiamo a vedere un grafico giornaliero, possiamo capire che dopo una pronunciata forza al rialzo di questo strumento finanziario, sembra che ci sia un cedimento. Ovviamente sono abbastanza simili euro yen e dollaro yen, però io tengo sempre d'occhio le mie medie e vedo se mi danno dei segnali che possono essere vantaggiosi per lo strumento in questione. Possiamo vedere che i prezzi hanno chiuso al di sotto di questa linea, ancora non c'è il segnale di vendita, io sono entrato lo stesso, anticipando e di conseguenza prendendomi un rischio, però per correttezza bisognerebbe entrare solamente una volta confermati i ribassi, una volta rotto l'area di 122.10. Aggiungo che l'area di 122 è importantissima come supporto tecnico, di conseguenza io agirei ulteriormente aspettando la rottura proprio di questo livello, per capire se ci può essere una vera correzione al ribasso abbastanza pronunciata, per pensare di poter operare con ottimi rapporti rischio rendimento su questo tipo di strumento. Bene, quindi 15 minuti di video analisi, direi che per ora può bastare, ci aggiorniamo sul sito investire.biz, vi invito a visitarlo, tutti quanti possono scrivere i propri articoli e commentare quelli degli altri, poi voglio ringraziare Michele che non sono riuscito a rispondergli ma nelle mie video analisi ha sicuramente capito qual è la mia visione che va in concomitanza, va insomma ad adeguarsi anche alla sua, quindi bell'articolo, bravo Michele, con questo vi invito a venire su investire.biz, vi auguro una buona giornata e un buon trading a tutti.